Le tensioni nella casa del grande fratello raggiungono il culmine. Anita Olivieri svela il segreto su Perla e Mirko. Torneranno insieme? Scopriamo insieme gli sviluppi avvincenti di questa storia d'amore. Mettete un like e iscrivetevi al canale per seguirci in questa nuova rivelazione. Grande fratello. Anita Olivieri apre il sipario sulle intricanti dinamiche della casa. Perla e Mirko stanno riaccendendo la fiamma. Lui mi ha svelato i suoi sentimenti. Negli ultimi momenti nella dimora del grande fratello, Anita Olivieri ha svelato segreti intimi riguardo a Mirko e Perla, gettando luce su una vicenda avvolta dal mistero. L'ingresso di Perla Vatiero ha agitato le acque della convivenza, creando nuove prospettive e sconvolgendo gli animi degli inquilini. Chi ha risentito maggiormente di questa tempesta emotiva? Senza dubbio, Mirko Brunetti, l'ex compagno di Perla. In questi giorni, ha condiviso riflessioni profonde e confessioni sulla loro storia, su Perla e soprattutto sulla sua attuale fidanzata, Greta Rossetti. Ha ammesso di essersi pentito di aver pronunciato «Tiamo troppo presto» all'ex tentatrice di Temptation Island, aprendo il cuore sia a Perla che ad Angelica Baraldi. Mentre il silenzio regna nei canali social di Greta, Anita Olivieri, durante una chiacchierata con Fiordaliso, ha rivelato confidenze intime di Mirko riguardo ai suoi sentimenti per Perla. La prospettiva di una riconciliazione è nell'aria. E Mirko sembra non essere indifferente all'ex fidanzata. Anita dice «Succede qualcosa tra loro due. Non ci credi? Sì, torneranno insieme. Dipende da quanto passeranno tempo insieme. Dagli due mesi succede qualcosa. Fidati. Ieri ha condiviso confidenze. Ha detto che Perla gli smuove qualcosa. Non gli è indifferente. Ha specificato che vederla e starle accanto, dopo anni insieme, evoca ricordi di una bella storia. Non so esattamente cosa intendesse, ma queste sono le frasi che ha pronunciato, le ricordo bene. E credo che sia una reazione normale. Commenta con il tuo emoji preferito se sei pronto per emozionarti con le rivelazioni di Anita e condividi questo video con chi ama il grande fratello. Con Fiordaliso convinta che Mirko resterà con Greta e Angelica Baraldi profetizza un ritorno di fiamma tra gli ex fidanzati. Il destino di questo triangolo amoroso è avvolto nel mistero. Voi cosa pensate? Chi avrà ragione? Iscrivetevi al canale e lasciate un like per condividere le vostre opinioni sulla vicenda.